Lo sai chi si è incontrato qui per la prima volta? Due che non immaginavano neanche quanto si sarebbero amati. Io sono Enea, Pietro. Forse è un posto in cui possiamo starcene da soli. Io sono venuto qua per te oggi. E me lo levavo dalla testa. E sei corso a consolarti con me? Come rimaniamo? Ma non è che adesso che vi siete innamorati tu non vieni più? Lui non entra, viene con me alla manifestazione. Così il tempo e lo spazio non ci separano. Sai com'è no nella vita? Prima tanto amici e poi ci si perde. Io conoscevo un ragazzo che si chiama Enea. Quello è diventato regista famoso. Dai, dici la verità. Tu i tuoi segreti li metti nei tuoi film, vero? Raccontare a volte è solo un modo per... Rivivere delle emozioni. Una passione come quella del film ti vuoi involgere, no? Quello che non dimentichi mai. È il passato più allontano e più sembra bello. Ho ormai smesso di dire, cercarti tra la foglia. Ho voluto bene a te. Ho voluto bene a tutti quanti. Tutta la vita. Ho aspettato che mi guardassi così. Come guardavi lui stasera. Ho solito. Grazie a tutti.